Anticipazioni di Terra Mara. Finalmente vedremo il primo bacio fra Ilmaz e la dottoressa Mujigan. Benvenuti a tutti nel mio canale. Il video che andremo a vedere ci mostrerà un Ilmaz un po' diverso dal solito che si lascerà andare un po' di più alle sue emozioni e dimenticherà per un momento la sua Zuleila che ormai è diventata padrona del suo cuore e lascerà che la vita che gira intorno a lui lo coinvolga in maniera più intensa. Infatti lo vediamo che mentre si è recato a casa della dottoressa Mujigan per potersi scusare del suo comportamento sbagliato che aveva tenuto la sera prima. Iniziano così una conversazione e Mujigan fa notare ad Ilmaz alcune cose del suo essere che come mai è diventato così crudele negli ultimi momenti. Ilmaz allora spiega alla dottoressa che il suo essere così non nasce da quando lui è nato ma solo da quando lo hanno annullato come persona e per poter rimanere a galla ha dovuto scoprire quel suo lato oscuro dentro di lui. ma le dice anche che cercherà di metterlo a dormire che lo assopirà che migliorirà perché proprio grazie a lei si è accorto che ha sbagliato e chiede ancora scusa alla dottoressa. La dottoressa accetta le sue scuse invitando Ilmaz a non mandarle più fiori che la sta comprendo letteralmente di fiori e lui le dice che le fa molto piacere fare ciò ma proprio mentre si stanno parlando improvvisamente va via la luce e la dottoressa Mujigan dice che deve cercare una candela ma che non sa proprio in quella casa dove si trovi. Quindi Ilmaz nel buio la sorregge per far sì che non vada a sbattere contro qualche cosa. Poi trovano la candela in un cassetto ed Ilmaz dice che i fiammiferi li ha lui quindi accendono la candela e a quel punto uscendo dal buio totale si accorgono di essere molto vicini al punto di sfiorarsi con le labbra. Ilmaz allora mentre con dolcezza le accarezza le guance le dice che ha ammirato molto con quanto amore lei si presti e segua tutti per cercare di salvargli la vita che si vede che lei è piena di amore da donare e mentre lei sta per rispondergli che ama far star bene le persone a cui si dedica lui si avvicina e la sua bocca si appoggia dolcemente alle sue labbra. Immersi in quella meravigliosa atmosfera magica della candela che muove tutti i contorni delle cose. Le anticipazioni di oggi sono finite qui ma tu per continuare a vederne altre ricordati di lasciarci un like e di iscriverti al canale al prossimo video.